La rassegna stampa Purtroppo c'è ancora un decesso nella nostra regione, si tratta di un 73enne di Riccia che era ricoverato in malattie infettive, in tutto sono anche 72 i nuovi positivi, 18 a Termoli, 10 a Campobasso, 8 a Larino, 6 a Isernia e sono anche aumentati i ricoveri, sono 7. Sentiamo il servizio di Pierluigi Boraggine. Ancora un decesso il quinto nel giro di 24 ore, non ce l'ha fatta un 73enne di Riccia che da tempo era ricoverato in malattie infettive. La notizia è stata diffusa dal sindaco Pietro Testa, poi confermata dall'azienda sanitaria regionale nell'ultimo bollettino e così i decessi dall'inizio della pandemia salgono a 62. Altro dato preoccupante oltre ai decessi è quello relativo ai ricoveri in malattie infettive. Altri 7 persone di Isernia, Santa Croce di Magliano, Termoli, Peccetto Torinese, Campobasso e San Giuliano di Puglia e ancora 6 guariti e 72 positivi su 805 tamponi processati. Termoli, Campobasso, Larino e Isernia i centri più colpiti con rispettivamente 18, 10, 8 e 7 contagiati. 6 a Campomarino, 3 a Colletorto e Petacciato, 2 a Vinchiaturo e Pesche, un solo contagio a Boiano, Cantalupo nel Sagno, Castelpetroso, Fossalto, Macchia di Isernia, Mafalda, Monte Nero di Bisaccia, Palata, Riccia, Rio Nero Sannitico, Rotello, San Martino in Pensilis e Santa Croce di Magliano. Tutti i cluster noti fa sapere l'aserem. Complessivamente in Molise ci sono 1.909 positivi al covid, asintomatici in isolamento sono 1.847. Infine i dati nazionali, 37.978 nuovi positivi e 636 morti, numeri monstre che dovrebbero far riflettere. E sono 55 i pazienti nel reparto di malattie infettive, reparto sold out. Florenzano scrive primari, siamo in preallarme, intanto si apre anche la fase 5 dove i ricoverati no covid, quelli di rianimazione, saranno curati negli ospedali di Termoli e Isernia. Sentiamo. Abbiamo delle difficoltà, quindi lavoriamo per reperire ulteriori spazi al Cardarelli. Queste le dichiarazioni del direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano, rilasciate a Teleregione subito dopo l'unità di crisi che si è svolta in modalità telematica. La criticità è relativa soprattutto a malattie infettive, reparto che al momento conta ben 55 pazienti, cifra che sta mettendo in sofferenza tutta la struttura e che ha fatto piombare il piano d'emergenza in fase 4. Ma i numeri dei ricoverati e quelli dei pazienti che in queste settimane stanno affollando anche i pronto soccorso di Isernia e Termoli hanno generato un ulteriore aggravamento e la sensazione è che si stia andando verso la fase 5, quella cioè che prevede la sospensione delle attività programmate ambulatoriali, le emergenze internistiche e chirurgiche H24 e il ricovero in rianimazione dei pazienti no covid negli ospedali SPOC, quindi Veneziale e Santimoteo. A chiarire che si potrebbe arrivare a breve alla fase 5 sono stati proprio il manager e la direttrice sanitaria dell'ASREM Scafarto, inviando una nota ai primari di tutti gli ospedali. Nella comunicazione si parla di uno stato di preallarme che prelude cioè all'attivazione del PAYMAF, acronimo di Piano d'emergenza per il massiccio flusso di feriti. Si tratta di una modalità in cui il lavoro di medici e infermieri viene catalizzato su un numero importante di pazienti ma senza che si genere il caos. Le forze vengono convogliate sulle persone in arrivo a causa dell'emergenza e ottimizzate per garantire assistenza a tutti come quella assicurata a un singolo paziente. Quando ci arriveremo lo diremo, ha detto ancora Florenzano, spiegando che si stanno cercando altri locali nell'ospedale Covid a Campobasso per l'eventuale ricovero di altri pazienti contagiati dal virus. Ma si stanno reperendo anche ulteriori spazi al Veneziale e al Santimotio per le cosiddette aree grigie. Insomma, una situazione mai vista prima, nemmeno a marzo, che sta creando preoccupazione anche all'interno del personale sanitario. Sulla situazione dei contagi ma anche sulle nuove misure adottate dalle regioni apriranno tutti i quotidiani. Ma partiamo dal locale. Primo piano Molise, un altro decesso, 7 ricoveri e 72 contagi. La 62esima vittima dall'inizio della pandemia è un 73enne di Riccia, processati 805 tamponi, nessun guarito, 1.909. Gli attualmente positivi, mentre sono 6 i dimessi da malattie infettive, 7 pazienti in terapia intensiva. Ospedale a limite, pronto l'allestimento di ulteriori posti letto al secondo piano, in un reparto già utilizzato nella prima fase dell'emergenza. Hotel per la quarantena. Toma, siamo definendo con Arcuri. Ieri il vertice tra i governatori e il ministro Francesco Boccia. Isernia, anziana, muore in ambulanza. Il test post-mortem conferma al virus l'incognita. Cerce Maggiore e Venafro, decine di casi ignoti. All'ASREM, poi il punto a firma del direttore Luca Colella. Pandemia e informazione, non lasciate soli i sindaci. Campo Basso, affidati i lavori per trasformare l'hospice del Cardarelli in Covid Hospital. Ecco le ditte scelte dal commissario Arcuri. Poi il rapporto, l'economia al tempo del virus. Banca Italia in Molise, impatto della crisi devastante, come nel resto del paese. La notizia sul Cosib. Roberto Di Pardo, eletto presidente, mentre Bellotti del Partito Democratico vota con il centrodestra. Campo Marino, la provincia batte le piante di Eucalipto. Di Maio, mi incateno. Campo Basso puntò l'arma contro un detenuto che tentò la fuga. Caso chiuso, agente prosciolto. Venafro, PTV di contrabbando, sgominato. Il sodalizio guidato da un venafrano sono stati sequestrati 10 milioni. Poi c'è lo sport con il calcio di Serie D in primo piano. Stadio Selvapiana, lavori sui copriferro. Appalto vinto da una ditta di Cerignola. L'opera dovrebbe essere terminata entro la fine dell'anno. Lupi rinviato ancora il match con l'Alba Longa. da stabilire la nuova data del recupero. Intanto ci sono tre molisani. In evidenza Bari, Bomber, Nantenucci, Brilla. Adesso passiamo ai quotidiani nazionali con il romano. Il messaggero, Natale, cena con i parenti stretti. Il piano del governo, ridurre il rischio contagio durante le festività. Limiti alla mobilità tra regioni. Spuntano gli orari differenziati per la spesa degli over 65. Campania, c'è l'ipotesi zona rossa. Poi la notizia sul fisco. Una sanatoria per chi salta le rate delle cartelle sattoriali riammesse ai benefici le vittime della crisi, i versamenti senza interessi e sanzioni. Poi la notizia di Cronaca. Una vita lunga, 27 anni. Due fratelli, stesso destino. Loro sono Hannes ed Elena. Sono morti scalando montagne a distanza. di 48 mesi. Di spalla l'articolo di Carlo Nordio. La certezza delle norme per salvare l'economia. Le regole suggerite. Passiamo così al Corriere della Sera. Più chiusure nelle città. Accessi limitati alle piazze. Nelle aree gialle e arancioni. Covid hotel ovunque. Stretta anche in Emilia Romagna. Friuli, Venezia, Giulia e Veneto. Nei negozi. Un cliente per famiglia. All'interno Varese ha arrestato un ceceno legato agli attentatori. L'inchiesta, l'Italia e l'attacco di Vienna. Poi al centro pagina ho perso il mio piccolo. L'urlo di quella madre. Si parla di migranti. E la tragedia di Joseph morto a sei mesi. Ieri sono stati recuperati altri 94 corpi di spalla. L'articolo di Antonio Polito. Il Trump che resta tra di noi. Fratture e rimedi. Il focus sugli USA. Passiamo alla Repubblica. Regioni. Nuova stretta. Battaglia sulla Campania. Veneto, Friuli e Emilia Romagna. Blindano il weekend. Palermo chiude le scuole. In campo ci sono gli agenti dell'esercito. Gli ispettori della sanità intanto bocciano. Gli ospedali di Napoli e De Luca sfida il governo. Ma poi c'è il sì alle zone rosse. Altre 38 mila malati in più. Ma scende l'indice di contagio. Il commento. I troppo presenti. E i grandi assenti. Poi il mondo che cambia. Con Greta Thunberg. Che afferma. Fermiamo il virus. Poi lotteremo per il clima. Dopo la norma in difesa di Mediaset. Parigi si muove per vivendi. Unione Europea. Vigili sulla legge italiana. Siamo al fatto quotidiano. Se va avanti così. Niente lockdown. Così apre il giornale di Marco Travaglio. I contagi frenano. L'Italia sta meglio. Di Francia e Spagna. Non però della Germania. E la Gran Bretagna. Intanto fa il record di morti. Macchia di Leopardo. Le zone rosse funzionano. In Europa. Poi nel taglio alto. Aspi. Bugie. Zero controlli. Manager cacciato. E poi il rientrato. Si parla del caso autostrade. Il dirigente diceva. Pinocchio. Se può modellare. Adesso il sole 24 ore. Banche. Prestiti garantiti a rischio. Dalla BCE. L'allarme. Credit crunch. Liquidità. Banche e imprese. Temono che la copertura pubblica. A fine anno. Non sia prorogata. La banca centrale. È pronta a intervenire. in aiuto di famiglie e imprese. Arcuri. Primi vaccini in Italia. A fine gennaio. Intanto è stretta in tre regioni. I nuovi limiti. Introdotti quindi. De Mia Romagna. Friuli e Veneto. E salgono. I contagi. In relazione anche ai decessi. Nel centro pagina. Anton Arnaud. 200 milioni investiti in un anno sull'Italia. Si parla del gruppo francese di moda e di pelletteria. Che ha puntato sulla Toscana. Adesso lo sport. Con i titoli della Gazzetta dello Sport. Pensaci Lu. L'istinto killer di Lukaku. Per tornare a vincere. Dimostrato la squadra ha troppo bisogno di lui. L'Inter e la voglia di rincorsa. Appunto la copertina dedicata all'attaccante nero azzurro. Poi c'è la Lazio. Che rischia. La Asle quarantena. Il medico Pulcini sotto Torchio. Non ha convinto. L'inchiesta della procura federale continua. Poi lo spazio su Grifo. L'attaccante azzurro. I miei due no ai club italiani. Ma se arrivasse l'occasione. Intervista appunto a Grifo. Che si sta mettendo in risalto in queste partite con l'Italia. Poi c'è la notizia anche su Eriksen. Che strappa con l'Inter. Conte non mi vuole. E a gennaio vedremo. Articolo anche su Albertini. Effetto sorpresa come nel 99. Milan lo scudetto è possibile. Chiudiamo con l'ultima notizia su CR7. Juve. Ma dove può arrivare parte la caccia ai gol di Pelé. Dopo aver preso Puskas. Nuovo record nel mirino dell'attaccante bianconero. Adesso diamo uno sguardo agli appuntamenti. Previsti per quest'oggi sulla nostra rete. Si parte alle ore 11 con Molise Sport. Viva la musica alle ore 13. 13.45. Salus TV. L'edizione del telegiornale alle ore 14.00. Ore 16.00. Molise Sport. Paese mio alle 17.30. 19.30. Il TG News. Conto alla rovescia alle ore 21.00. E si chiude con l'ultima edizione del telegiornale alle ore 23.00. Bene, con questo è davvero tutto. Grazie per aver scelto la nostra informazione. e a tutti l'augurio di una buona giornata.